e buongiorno buongiorno meditazione della parodia d'alta voce dal libro dei proverbi un pastore una volta mi consiglio di leggere il libro dei proverbi ogni giorno tant'è che i capitoli sono 31 come sono solitamente 31 i giorni dell'anno e voglio intitolare questa mia riflessione meditazione ad alta voce per cui voglio ad alta voce meditare la parola di dio oggi proprio che ne abbiamo 11 11 novembre meditiamo il capitolo 11 del libro dei proverbi quindi meditazione ad alta voce quindi stamattina mentre leggevo i proverbi per conto mio all'improvviso all'improvviso ho iniziato a meditare il signore nel mio cuore mi disse perché non condividerlo con gli altri questi meditazioni ad alta voce bene li leggiamo assieme proverbi capitolo 11 verso 1 dice la bilancia falsa è un abominio per l'eterno ma il peso giusto gli è gradito che significa che il signore ama la falsità nell'economia quindi bilancia signore ama la falsità quando noi a livello di economia non usiamo la rettitudine è una di queste è quella descritta da gesù stesso dice date a cesare quello che dice essere date a dio quello che di dio c'è una parte che dobbiamo dare a questo mondo c'è una parte che dobbiamo dare a dio e questo è descritto perfettamente in malachia capitolo 3 quando parla delle decime delle offerte per cui il signore non gli piace la bilancia falsa non gli piace quando noi non agiamo con rettitudine dando a dio quello che di dio e dando a cesare quello che di cesare verso 2 del libro i proverbi quando viene la superbia viene anche il disonore ma la sapienza è con gli uomini 3 l'integrità degli uomini retti di guida ma la perversità dei perfidi distruggerà vedete quanto importante essere integri essere sani moralmente dottinalmente perché l'integrità ci guida invece quando uno non è integro non è sano è perverso e questa perversità lo distruggerà verso 4 le ricchezze non giovane affatto nel giorno dell'ira ma la giustizia salva dalla morte la giustizia dell'uomo integro gli appiana la via ma l'embio cade per la sua empietà la giustizia degli uomini retti li libera ma i perfidi saranno presi nella loro stessa malvagità quando un embio muore la sua speranza perisce e l'attesa degli ingiusti svanisce verso 8 il giusto è liberato dall'avversità ma l'embio ne prende il posto con la sua bocca l'ipocrita manda in rovina il suo prossimo ma i giusti sono liberati a motivo della loro conoscenza o quanto importante la conoscenza vedete in questo verso dice che i giusti sono liberati a motivo della loro conoscenza proprio conferma quello che disse gesù in giovanni 8 30 31 e 32 dice conoscerete la verità la verità vi renderà liberi vedete la verità ci rende liberi la conoscenza è importante la conoscenza è molto importante la conoscenza ti porta alla fede la conoscenza ti porta alle cose spirituali senza la conoscenza delle sacre scritture non potrai avere direzioni un uomo di dio mi ha insegnato una volta e mi disse la fede inizia quando la volontà di dio è conosciuta la fede inizia quando la volontà di dio conosciuto quando c'è la conoscenza inizia la fede ecco perché dice che i giusti sono liberati a motivo della loro conoscenza proverbi capitolo 11 verso 9 quindi tanti da fare per avere conoscenza a volte ci sono persone che mi dicono pastore ma quando mi costa la scuola biblica io dico la domanda è sbagliata la domanda dove dovesse dire invece quando mi costerà l'ignoranza quando mi costerà non sapere certe cose quando mi costerà non sapere la verità non quanto mi costa a livello economico ma quanto mi costa non sapere quello che insegna la parola di dio verso 10 quando i giusti prosperano la città gioisce ma quando periscono gli empi quando periscono gli empi ci sono crisi di gioia 11 per la benedizione degli uomini retti la città è innalzata ma per la bocca degli empi va in rovina notate che bello per la benedizione degli uomini retti la città è innalzata quando c'è benedizione nella nostra vita innalziamo altre persone quando c'è la benedizione in un uomo di dio in una nonna di dio questa benedizione lui fluisce nelle altre persone e li innalza li porta ai livelli più alti verso 12 chi disprezza il suo prossimo e privo di senno ma l'uomo prudente tace chi va in giro sparlando svere segreti ma chi ha uno spirito leale c'è dalla cosa senza una saggia guida il popolo cade ma nel gran numero di consiglieri c'è salvezza oh quanto è importante avere un mentore quanto è importante avere un mentore nella propria vita spesso i miei studenti gli insegno che un mentore importante perché un mentore ti indica la via ti indica la superstrada ti indica i burroni e accelera il tuo apprendimento non sai cosa non sai cosa ti perdi se tu non hai un mentore nella tua vita senza una saggia guida il popolo cade dice proverbi 11 14 verso 15 chi si fa garante per un estraneo ne soffrirà danno ma che rifiuta di dare la mano come garanzia è al sicuro non fatevi garanti di nessuno non fatevi di garanti garanti di nessuno vi rovinerete lo dice la bibbia e molti hanno fatto questa brutta esperienza chi si fa garante per un estraneo ne soffrirà danno ma che rifiuta di darlo la mano come garanzia è al sicuro vuoi stare al sicuro non farti garante di nessuno 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 ci passone perché lo ripeti nessuno tante volte perché se la bibbia ti dice nessuno vuol dire nessuno mettici a qualsiasi tipo anche di relazione se la bibbia ti dice nessuno vuol dire nessuno c'è ma io per i figli nessuno ma io per i miei parenti nessuno ma io per i miei amici nessuno questo è l'indicazione biblica chi si fa garante per un estraneo ne soffrirà danno ma chi rifiuta di dar la mano come garanzia è al sicuro chi si fa garante per un estraneo ne soffrirà danno ma chi rifiuta di dar la mano come garanzia è sicuro non dice tranne che o per i figli o per questo dice la bibbia chi si fa garante per un emaci pastore ma è un estraneo qui potrei approfondire tante cose ma non posso non posso ci sono persone che hanno fatto anche per parenti certi certe garanzie si sono fatti garante si sono rovinati la vita perché uno può essere parente a livello sangue di alvelo di sangue ma è strano a livello spirituale quindi il vero legame non è quello di sangue ma quello dello spirito non posso approfondire 17 l'uomo misericordioso fa bene a se stesso ma il crudere tormenta la sua stessa carne fai del bene a te stesso forse fare del bene a te stesso e star lontano da qualcuno l'uomo misericordioso fa bene a se stesso fa bene a se stesso fai del bene a te stesso alcuni si rovinano non facendo male non facendo del bene a se stessi perché pensano sempre agli altri e pensano sempre agli altri e pensano sempre agli altri sei crudele se pensi sempre agli altri non pensi a te stesso non hai un ritaglio della tua vita non hai un tempo per te sei crudele perché l'uomo misericordioso fa bene a se stesso non è sbagliato fa del bene a te stesso fare regalo a te stesso avere un tempo per te stesso essere libero dagli altri per avere pace per te stesso andare a mangiare fuori con tua moglie marito per te stesso ma il crudele tormenta la sua stessa carne perché perché sta pensando agli altri e non più a se stessi ma pastore significa egoismo no significa volersi bene lo dice la bibbia verso 18 l'envio realizza un guadagno fallace ma chi semina giustizia avrà una ricompensa sicura come la giustizia conduce alla vita così chi va dietro al male si produce la morte i perversi di cuore sono un abominio per l'eterno ma quelli che sono integri nella loro condotta gli sono graditi anche se stinge la mano ad un altro per un'alleanza il malvagio non rimarrà impunito ma la progenie dei giusti scamperà come un anello d'oro nel grugno di un porco così una bella donna senza senno ah che bella quella donna sì ma se non la saggezza di dio è come avere un anello d'oro nel dito nel grugno di un porco si rotolerà nel fanco è bella quel ragazzo che bella quella ragazza sì ma se non ha gesù se non ha lo spirito di dio se non è nato di nuovo sarà come mettere un anello in un porco nel dito di un porco lo rotolerà poi nel fango 23 il desiderio dei giusti è soltanto il bene ma la speranza degli empie e l'ira c'è chi spande generosamente diventa più ricco e c'è chi risparmia più del necessario diventa sempre più povero non fare il taccagno non fa la taccagna perché se risparmi più del dovuto non definirà tanto bene infatti dice c'è chi spande generosamente è un donatore pensa all'opera di dio è un donatore ci diventa sempre più ricco ma c'è chi risparmia più del necessario non dà pensa se stesso e diventa sempre più povero 25 la persona generosa si arricchirà vedete è collegato con il verso 24 la persona generosa si arricchirà e chi annaffia sarà pure egli annaffiato annaffiare l'opera di dio dare per l'opera di dio dare per i poveri questo significa annaffiare e se tu annaffi sarà annaffiato se tu invece permetti che situazioni vicino a te seccano anche tu ti seccherai 26 il popolo maledici che si rifiuta di dare il grano ma la benedizione sul capo di chilo 20 chi cerca con diligenza il bene si attira benevolenza ma chi cerca il male questo gli verrà addosso chi confida chi confida nelle sue ricchezze cadrà ma i giusti sbocceranno come foglie chi getta scompigli in casa propria erediterà vento e lo stolto sarà servo di chi è saggio di cuore attenzione a non gettare scompigli in casa in casa propria nella tua stessa casa perché erediterà il vento verso 30 il frutto del giusto è un albero di vita chi fa conquista di anima e saggio ecco il giusto riceve la ricompensa sulla terra tanto più lembra il peccatore ricordiamoci che la benedizione di dio c'è sempre una ricompensa se camminiamo rettamente c'è sempre una ricompensa nel bene o nel male in questa terra non credere come dico i testimoni di geova che le benedizioni saranno solo in cielo no in questa terra ecco il giusto riceve ricompensa sulla terra su questa terra tanto più lembra il peccatore anche loro in questa terra se sembrano cose negative cose negative verranno bene io ho finito per questo piccolo programma inventato immediatamente stamattina mentre meditavo dal titolo pensare ad alta voce lettura e meditazione dal libro dei proverbi dio vi benedica